in un incidente alla 24 ore di Spa nel campionato sport al volante di una Porsche 956 nel 1985. Ayrton arriva sul circuito e con una tuta bianca senza sponsor. Il suo casco giallo con le strisce verdi e blu è sempre quello, è il suo. Guarda la vettura, la osserva bene, la tocca, le parla, dopodiché sale a bordo, mette in moto. I meccanici, team manager, gli danno delle istruzioni ma è come se lui sapesse già tutto. Mette in moto, esce dalla corsia dei box, fa un giro di prova, dopodiché ritorna ai box. A chi si avvicina dice ok, credo di avere capito. Riesce dai box e fa 21 giri. Alla fine della sessione risulterà un secondo e sei decimi più veloce sia di Brandol che di Belloff. Ayrton scende dalla macchina, saluta tutti e rientra a casa. Dopo qualche tempo partecipa a delle prove organizzate dalla McLaren sul circuito di Silverstone e ci sono sempre ancora Brandol e Belloff e ancora una volta risulta più veloce dei tre, di quasi due secondi. È anche vero che dal mese di giugno Ayrton intratteneva contatti molto stretti con Bernie Eccleston, che all'epoca non era il capo della FIA o della FOCA, ma era semplicemente il patron della Brada, che aveva individuato nel brasiliano quelle scintille di genio per sostituire Riccardo Patrese che sarebbe passato all'Alfa Romeo. Però il suo ingaggio alla Brabham viene bloccato dalla Parmalat, che vuole un pilota italiano come seconda guida. Perciò Ayrton accetta la proposta di Alex Hockridge, della Toleman, che gli offre un contratto da 100.000 sterline ed esordisce quindi, in Formula 1, nel Gran Premio del Brasile del 1984. La Toleman TG 184 è una vettura mediocre, diciamo da zona medio-bassa, sia della classifica finale dei Gran Premi che della classifica finale nel campionato di Formula 1. è mossa da un motore turbo di 1500 cm3 prodotto dalla Hart, il più delle volte si rivela molto poco affidabile, con delle fiammatone incredibili, e Ayrton è costretto a parcheggiare l'auto sconsolato a bordo pista, tranne, tranne una volta. E' il Gran Premio di Monaco, Monte Carlo, 1984. La gara si disputa sotto un diluvio universale. I piloti fanno fatica a rimanere in pista, e solo chi ha un talento particolare riesce a gestire bene il mezzo e a non uscire di pista o fare incidenti clamorosi. E c'è solo uno dei piloti che riesce a enanellare giro dopo giro, sempre più veloce, con una sensibilità mostruosa, come una manuense, che compone il suo mosaico, il suo dipinto, nei dettagli, pezzo dopo pezzo, brano dopo brano, istante dopo istante. E questo mostro nella pioggia è Ayrton, che al volante della mediocre Toleman TG 184, supera uno dopo l'altro, tutti, e arriva in coda a lui, al professore, ad Alain Prost, che in questo mondiale 1984 è in lotta con lui, con l'orologio, con Niki Lauda, per la conquista del mondiale. Ayrton gli rosicchia secondi su secondi, e arriva all'ultimo giro, all'ultimo dei giri disputati fino a quel momento, dove ormai il distacco è minimo. Ma a quel punto il direttore di gara, che è l'ex pilota Jackie X, espone la bandiera rossa, fine gara. Prost taglia il traguardo per primo, per un non nulla, rallentando addirittura, e superato immediatamente dopo da Ayrton, che crede di aver vinto. Ayrton fa il suo giro finale, esultando, credendo di aver vinto. Poi, una volta tornato ai box, scopre l'amara realtà. X si scuserà con Ayrton più e più volte. Cercherà delle giustificazioni, dovute al fatto che la pista era ormai diventata impraticabile. Ayrton gli risponde, diventa impraticabile nel momento in cui i piloti non sanno trattenere la loro foga, ed esagerano. Ma se si va piano, se si riesce a gestire la vettura, la gara può essere portata fino in fondo. E comunque, questa è una vittoria mancata, ma è, a tutti gli effetti, la sua prima vittoria virtuale, reale. Prost guida una McLaren Porsche, con un motore non solo di gran lunga più affidabile, ma anche di gran lunga più potente. E poi la McLaren ha un telaio in fibra di carbonio incredibilmente reattivo. Il team può disporre di un budget pressoché illimitato. Però, questo duello con Prost, in ogni caso, lo lancia agli occhi delle altre scuderie, come uno dei piloti più desiderabili. Negli altri Gran Premi Ayrton arranca, perché ovviamente non ci sono più condizioni estreme, tuttavia chiude il campionato al nono posto, piazzandosi sul podio in Gran Bretagna e in Portogallo. E la grande beffa è che non riesce a qualificarsi proprio sul circuito di Imola, quel circuito maledetto, dove dieci anni dopo ci avrebbe salutati per sempre. L'anno dopo, Ayrton passa alla Lotus, alla nera Rotus, ancora con i colori della John Player Special. Il genio di Colin Chapman non c'è più, perché Colin è morto tre anni prima, misteriosamente. si dice che fosse coinvolto in uno scandalo con la DeLorean, la famosa auto di ritorno al futuro. Colin non c'è più, ma comunque ci sono dei tecnici piuttosto capaci che sono cresciuti alla scuola di Colin. E la Lotus è una macchina, tutto sommato, molto più veloce ed affidabile. Ed è mossa in questo momento da un motore Renault Turbo, non il massimo dei massimi, ma un buon motore. Ayrton trova come secondo pilota, quindi come compagno di squadra, il pilota italiano Elio De L'Angelis, che l'anno dopo, durante delle sessioni di prova, sarebbe volato fuori pista con la sua Bravan e ci avrebbe salutati per sempre. Anche in questo caso Ayrton tira fuori il suo talento, il suo enorme, incontenibile talento. E nel secondo Gran Premio stagionale, sul circuito dell'Estoril inondato, Ayrton vince ed è la sua prima grande vittoria in Formula 1. La gara portoghese mostra effettivamente che dopo il Gran Premio di Monaco del 1984, che nessuno può stare dietro al brasiliano quando si disputa una gara sul bagnato. Ayrton, infatti, parte dalla pole position per la prima volta in carriera e vince il Gran Premio di Estoril con oltre un minuto di vantaggio su Michele Alboreto su Ferrari, doppiando tutti gli altri piloti arrivati al traguardo, compreso il terzo classificato Patrick Tambè. Purtroppo non riuscirà a ripetersi due settimane dopo a Imola, dopo essere stato in testa per tutta la gara e infine costretto a cedere il comando a pochi giri dal termine per aver tirato troppo la vettura e quindi innalzato i consumi ed essere rimasto banalmente senza benzina. Ma il 1985 non è il suo anno, perché dopo questi Gran Premi incappa in una serie di risultati negativi dovuti fondamentalmente alla scarsa competitività della Lotus, però in ogni caso riesce sempre a mettersi in luce in qualifica, conquista diverse pole position, compresa quella sullo storico tracciato di Monte Carlo. Ed è proprio ancora lì a Monte Carlo che la determinazione e la grinta di Ayrton fanno infuriare piloti ben più esperti del calibro di Lauda e Alboreto, che accusano ingiustamente Senna di ostacolare gli avversari nei loro giri di qualificazione, con l'unico fine di mantenere la pole position in un tracciato cittadino come quello di Monaco, dove i sorpassi sono pressoché impossibili. La stagione del 1985 continua con quattro podi in Austria, Olanda, Italia e Gran Bretagna e con la seconda vittoria in carriera, proprio sul circuito scuola, dove si dimostra veramente il talento, dove tutti i grandi piloti hanno dimostrato il meglio di loro, che è il difficilissimo circuito di Spa-Francorchamps in Belgio, nuovamente in condizioni di bagnato. Ayrton conclude il campionato in quarta posizione, con 38 punti, 5 più del compagno Elio De Angelis. è il 1986 e questa volta Senna si ritrova come compagno l'ex tester della Ferrari Johnny Dumfries, perché Elio De Angelis è andato alla Brabham, motorizzata BMW. Ayrton spinse per avere come compagno di squadra il brasiliano Maurizio Gugelmin, ma lo sponsor, la famosa nera con livrea oro, John Player, insiste a tutti i costi per l'acquisto di un pilota britannico. Il campionato 1986 inizia per lui molto bene, con due podi nelle prime due gare, un secondo posto in Brasile, dietro a Piquet, irraggiungibile su una Williams onda astronautica e l'incredibile successo a Erez della Frontera, involata su Nigel Mansell. anche lui, su quella Williams onda davvero astronautica. E questo con un vantaggio sul fotofinish di soli 14 millesimi. Con questo successo Ayrton prende la testa della classifica, ma durante la stagione la superiorità tecnica di Williams e McLaren prendono il sopravvento. Piquet e Mansell se le danno di santa ragione in lotta per il titolo.